Così nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato quella che io considero la madre di tutte le riforme, che è la riforma della Costituzione, che introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e mette così fine alla stagione dei ribaltoni, dei giochi di palazzo, del trasformismo, dei governi tecnici, garantendo governi stabili e portando così l'Italia nella Terza Repubblica. La riforma è semplice, tocca appena 4 articoli su 139 della Costituzione, escludendo ovviamente le disposizioni transitori, cosa prevede? Primo, prevede che i poteri del Presidente della Repubblica non vengono toccati, salvo ovviamente il fatto che l'incarico di formare il governo viene automaticamente assegnato al candidato che si è affermato nelle urne. Secondo, prevede che il Presidente del Consiglio è eletto direttamente dal popolo, viene eletto contestualmente alle Camere e che la legge elettorale deve garantire che il Presidente eletto abbia anche una maggioranza in Parlamento. Terzo, prevediamo una norma antiribaltone e antigoverno tecnico, che dice che nei casi estremi in cui il Presidente eletto dovesse dimettersi o essere sfiduciato dalla sua maggioranza o insomma altre tragedie, l'unica possibilità di non sciogliere le Camere e tornare subito al voto è che un altro parlamentare, quindi non sono possibili governi tecnici, eletto nella maggioranza, quindi non sono possibili i ribaltoni, ottenga la fiducia ma solo per portare avanti lo stesso programma e gli stessi impegni sui quali il Presidente eletto aveva già ottenuto la fiducia, quindi è impossibile fare le maggioranze arcobaleno, ma c'è solo la possibilità di portare avanti lo stesso lavoro iniziato da chi è stato scelto dai cittadini. Quarta e ultima novità, vengono aboliti i senatori a vita di futura nomina del Presidente della Repubblica, mentre ovviamente rimangono senatori a vita gli ex Presidenti della Repubblica.